Ciao a tutti, vediamo in questo video, segni zodiacali che cercano partner più maturi. Prima però iscriviti a tutti i miei canali YouTube, Massimo Tramasco, crescita personale con Massimo Tramasco, felicità benessere, molto stima, ti mando la campanella così riceverai le notifiche di nuovi video. Seguimi ovviamente su Instagram e su TikTok, ovviamente. Quali sono i segni zodiacali che cercano partner più maturi? Ci sono dei segni zodiacali che non sono interessati molto alla differenza d'età, e che, differenza d'età nel senso di trovare partner più anziani, e diciamo vanno alla ricerca, anzi di proposito, di partner più anziani per diversi motivi. Quali sono questi segni? Beh, in primis abbiamo il leone. Il leone vuole essere sempre al centro della relazione, al centro delle attenzioni dell'altra persona. Per cui, trovandosi sia l'uomo che anche la donna, comunque, un partner più anziano, spera di poter, ed è anche probabile in questo modo, essere più al centro dell'attenzione del partner, in quanto si percepisce di avere un maggior potere di seduttività. Questo, diciamo, consente, diciamo, al leone di essere adulato, fondamentalmente. Un altro segno che sembra strano, ma che va alla ricerca di partner più mature, è il segno della bilancia. Il segno della bilancia, purché siano esteticamente belli, il segno della bilancia va, diciamo, alla ricerca di persone più mature, perché il segno della bilancia, normalmente, è un segno che va alla ricerca dell'estetica, ma va anche alla ricerca, diciamo, della vita bella, piacevole, e quindi, ovviamente, tendono ad andare alla ricerca di partner più mature, che siano anche, come dire, posizionati economicamente, fondamentalmente, per poter vivere una vita, diciamo, per poter usufruire, diciamo, di un tenore di vita migliore, grazie al benessere economico del partner. E poi abbiamo l'acquario. L'acquario non guarda mai la differenza d'età in una relazione, anche perché è molto libero, e quindi, spesso, persone magari più grandi possono avere degli impegni, magari dei figli da guardare, da accudire, essere più comprensivi, non vanno alle ricerche magari di una famiglia. L'acquario vuole essere completamente libero. Bene, iscriviti al mio canale YouTube, seguimi su Instagram, seguimi su TikTok. Ciao a tutti!